Ciao ragazzi, eccoci ancora nel garage di casa mia e sono qui con i Canapan, la mia band. Qui c'è Maurizio, qui c'è Luigino Lepetto, qui abbiamo Mirko e qua c'è Fabio. Eccoci di nuovo, i Canapan. Questa sera vi proponiamo un'altra cover, è un pezzo di Achille Lauro, 1969. Vai! Ah ma, wow, è il 20 luglio del 69, si sono fuori, si si sono sulla luna. Dentro al negozio, camicia sbacciata, dico, prego, sono comodo, di qua. Ho un mille pezzi da cento spieganza di mano, mi chiedo, po' che lavoro fa? Ricompro la casa che c'hanno tolto, prende una leviso dentro il spa, ti devi regare quella boutique. Sto vivendo a mano, lo so, e non ti conferma, o se sera. Ho un mille pezzi da cento spieganza di mano, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo. Ho un mille pezzi da cento spieganza di mano, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, mi chieso, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un like, lasciare qualcosa nei commenti. E ricordatevi anche che vi vi lascio con te! Se non vi iscrivete. Va bene, ci vediamo alla prossima canzone! Ciao!